Musica Ciao ragazzi, sono sempre il vostro Alpe oggi siamo di nuovo e allora, l'ultima volta abbiamo arrestato i due vandali che avevano anche due armi non so come mai, però vabbè adesso il radar di monitoraggio velocità, vabbè, come solito ok andiamo di qua sta volta no ругli il non è giocato posto ragazzi che era mai apporto che gabbè si va c'è Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, lasciarla, ma dai. Scusi, no, ho sbagliato. Devo fare la sua macchina. Ok, non ha risultato problemi con questo veicolo. Ok, va bene. Ma lei mi spiace, devo mettere in arresto. Eh. La metterò in macchina. Questo qua. Ok. Più 30. No, se facciamo così, è meglio. Facciamo venire un furgone della polizia a trasportare. Se no... Ok. Se andiamo avanti e indietro... Ma si può andare qua, immagino. Ah, entriamo in un'altra contea. Non posso non me... Non me ha girato. Non fa benzina tanto. Andiamo verso l'alà. Pa-pam, 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 pa-pam. Allora, dov'è? Benzinare i pianti. Ok. Ok. Se andiamo avanti... Grazie, molto gentile. Ho visto che è abbastanza... Adesso lo dimettiamo a scendere. Devo un pochettino da usare l'etilometro, infatti. Immaginavo. Ehm, mi dispiace. Lo perquisiamo, non ho niente. Ok, pulito. Adesso guardiamo un momento la sua auto, signore. Allora, controlliamo. Ehm, ok, vabbè. Non ho nessun problema. Però lei, mi dispiace, la devo mettere in arresto. Ehm, eh, 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 eh. Ok. Un furgone è venuto a prenderlo. Questo invece lo facciamo così, poi facciamo... Quindi a prendere un carattere, sì. E siamo a posto. Ok. Ok. Adesso facciamo la benzina 22 dollari e è fatto A presto Ok, perché andiamo così, piava signora? Allora, esci dall'auto, eh eh, vediamo facciamo, usiamo gli etilol, niente, ok, come mai, ok, pulito, adesso guardiamo un pochettino l'auto però, eh eh eh, che magari, ok, eccola là, è stato causato un problema con quest'auto, veicolo e il faro rotto, eh eh, infliggiamo una bella contraversione, eh eh, è già pupazza, ok, può andare, dai, chi ti ha detto da, di uscire, ok, ragazze che stanno compiendo atti vandalci contro un edificio nelle vicinanze, arrest, ali e portali via, ok, guarda. Ok, ciao, 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 ciao PAM PRADAM PORBAM PAM PAM Bella questa musichetta però ragazzi eh? Che ne dite di questo gameplay? Vi piace no? O no? Vorrei buttare sotto una signora. Ok. Continuiamo la risposta. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Allora, fine adulta, tunica blu, pantaloni blu, scarpe nere, soggetto a due maschi. Tunica nere, pantaloni neri, scarpe nere. Ok continuiamo a toccare l'identità. E' un'altra cosa. E' un'altra cosa. Questa è un'altra cosa. La cosa è fuori. vediamo se hanno visto qualcosa questi dispiacellamente non possiamo aiutarli a fangola vediamo ls sa qualcosa non ho visto niente eh eh vabbè più avanti ok vediamo ls la mezzo qua non c'è niente ok vediamo se questo qua ha visto qualcosa si ho visto qualcuno con queste caratteristiche sono passati qui ok grazie mi spiace ma lei deve venire con me in centrale anzi le faccio venire subito ok una vuole saldo ragazzi e non dimmi che costa qua ok vediamo adesso se c'è qualcosa no zero ok vediamo carta in età ok vediamo 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 Facciamo una perquisizione, va. Ok, niente, va. Accendi. Eh, dai da parte. Cazzo, però non ho una... Un'auto da fuoristrada, cacchiolina. Lei ha visto qualcosa? Sì, sappiamo che sei stanco. Stanca. Secondo me sa anche in cui si paragge il moto. Non so perché, ma... Ecco la qua. Questa è la polizia. Ti arresto. Neanche non ti controlli se hai un'arma, mi spiace. Anzi. Ti porto via. Ragazzi, abbiamo fatto anche questo qua. Missione completata, perfetta. Ok. Adesso possiamo anche ritornare a casuccia. Tutti. Questa è stata attraversa. È stata attraversa il suo territorio. Un'automática città. Chiarati. Chiarati. Qui sono stati. Questa è una persona che sta cercando di tempo. Non è un'obietta. Città. Sì. Chiarati. È un'obietta. È un'obietta. Non è un'obietta. Abbiamo una selezione di qualcuno che ha fatto eruzione in un edificio, ma non posso. Sto già controlando questo matto qua. Ok, adesso vediamo. Facciamo l'etilometro. Ecco, se voglio. Ho visto che ci bandava come un matto. Facciamo la prequisizione, niente. Ok, è pulito. Allora, guardiamo l'auto. Il veicolo ha una carta di circolazione scaluta. Ok, infliggiamo una bella multa. E più questo qua lo arrestiamo. Mi spiace per lui. Allora, adesso dobbiamo fare 3 e lo facciamo portare via. Ok. Ok. Ma non, secondo me. Mi sono dimenticato per far portare via l'auto. Ok. Abbiamo un altro punteggio. Un più 30. Andiamo di qua. Allora. Faremo un'altra benzina, vabbè. St'auto si ferma come... Guarda. E fermati. Sì. Ok. Ciao. Può toglierci i dollari dai. Stavolta è stato a meno. No. Allora... ... ... ... ... Ehm, un'altra è stata obbligacchezza, eh? Oh, una donna come lei è stata obbligacchezza, eh? Ok, adesso vogliamo... No, chi... Signora mia! Pura! Stop il veicolo! Scusate, fuori l'auto! No, mi spiace. No, meglio per lei che l'auto anche pulita. Non mi toccare starla, mi spiace. Eh... Più cinquanta. Ok. Finché sono ancora in servizio. Allora... Prendiamo le luci. Andiamo. Si. Prendiamo nessun altro. Dobbiamo anche... Oggi, l'avrata l'auto. Sì. 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 Ok. ecco un altro eh stavolta voglio un'auto ci starla vediamo prequisizione pulito ok adesso vediamo un pochetto l'autobot e niente ok ma lei mi tocca restarla che ubriaco mi spiace per lei adesso facciamo via e facciamo portare via ok adesso potremmo via cliccare ok ok mi faranno andare fuori da muro visibile ragazzi io adesso staccherò e noi ci sentiamo al prossimo play sempre con il vostro volpe ciao a tutti ok 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 ok